Ci si candida per tanti motivi, primo per amore verso il proprio paese e per passione. Io ho una passione politica ereditata trasmessa da mio padre ma è un fatto perché tengo tantissimo al mio paese e dopo essere stato anche a lungo amministratore desidero continuare questa mia esperienza al servizio della mia gente, al servizio del mio paese. Se i cittadini di San Filippo del Mela ci daranno il premio e quindi contribuiranno ad eleggere la nostra amministrazione, noi saremo coloro i quali amministreremo questo paese nel solco della legalità e nell'interesse supremo generale della gente. Ritare speranza a chi ha perso il lavoro, a chi il lavoro non l'ha mai avuto, salvaguardia economica dell'ente, possiamo dire che siamo fra i pochissimi comuni della provincia di Messina ad avere una situazione economica veramente di tutto rispetto, tutela dell'ambiente e soprattutto servizi alla gente e ai più bisognosi e alle classi più vantaggiate. Nella mia lista è una lista che racchiude all'interno tantissimi candidati, consiglieri comunali uscenti e amministratori comunali uscenti, nel contempo racchiude anche esperienze nuove di persone, di servitori dello Stato, di funzionari. Credo che abbiamo un progetto politico credibile e soprattutto siamo credibili sotto l'aspetto della competenza e della capacità.